La bestia sta arrivando e io sarò pronto, non importa quale prezzo. La bestia si trova a 2413 km da New Marie. Sì, ho capito. Vai avanti, per favore. L'abbiamo capito, abbiamo letto. Che bei tatuaggi, Cole. Ehi, Cole. Sai, quando uno parla con Wolf, tutto diventa completamente... Assurdo? Zeke! Zeke, spegni i motori! E non sapremo mai cosa. Un blocco della milizia. Sparano a chiunque si avvicini, ci affonderebbero. Ok, è il momento di fare le presentazioni. Duh! Aspetta, bello! Prendi questa! Ecco qui! Sicuro sia pronto. Beh, speriamo. Al massimo ti saltano via le mani. Oh, non ci credo. Bella quell'arma, mamma mia. È uno dei miglioramenti più belli da Infamous 1 al 2. Grazie, amico. Vai, divertiti. È uno dei miglioramenti più belli, questi. Cazzo, sì. Brandire l'amplificatore. Cazzo, che bello. Beh, in realtà non è che abbiamo chissà quanto livello di karma positivo, eh. Cioè, è andato mezza tacca, però... Allora, guardiamo un attimo già i nostri poteri, perché io ho comprato giustamente i DLC. Eccola qui. Esplosione calcolata e gancio di fulmini. Una potente orda d'urto cinetica che scaia via in area oggetti e terre nemici, ok? Un'esplosione a lunghissima gittata, a raggio ridotto, ottima per far cadere i nemici dai tetti e più distanti. Ok, è la versione più potente di questa, insomma. E gancio di fulmine, un laccio elettrocinetico che trascina verso col oggetti e nemici. Non è male, però questa è più ampia. Poi, al quadrato abbiamo la granata alfa, che già è quella base. Una raffinata arma che, una volta scesa a terra, salta verso il nemico più vicino, esplodendo solo quando si è abbastanza vicino da recai danno. E elettrocuzione. Una spietata trappola che si protrae verso i nemici circostanti e paralizzarli con la scossa prima di un'esplosione. Ok, è una granata che fa danno e inoltre poi esplode. Bella, mi piace. Le skin abbiamo Call di New Marie, amplificatore d'oro, spada da samurai, esatto, bastone di Sly, clave da cavernicolo, Call di New Marie. Ok, non abbiamo altre skin, credo. Io metterei il... spada da samurai, dai, mi piace. Vuoi cambiare la skin di Call? Ah, così? Mi fai ricominciare addirittura? Ah, ok, semplicemente dal primo punto più vicino. Bella, con la spada da samurai, cazzo. Tutto l'impegno di Zika è andato a farsi fottere in un attimo. Ma non ci importa, vero? Detto questo, non c'è nulla da questa parte, ok? Volevo vedere se c'erano già dei frammenti dell'esplosione, ma effettivamente siamo lontani. Quello che ho detto è stupido. Quello che ho detto è stupido, non ci potevano essere frammenti dell'esplosione qui. Ecco fatto. State buoni voi. Vieni qui. Minchia, gli ho affondato la spada nel costato. Bene. Bene, zio mio. Eh già. E quello è vero. Una cosa bella del... Dicevo. Ehi bello, stai bene? Ti ho visto male. Sto bene. Un po' di elettricità. Mi riprenderò subito. Beh. Dicevo. Una cosa bella di Infamous 2. Oltre a scegliere il tipo di potenziamento, il, diciamo, salto allungato ha un potere extra. Quando lo usi, il glide, non solo ti fa planare, ma ti fa anche una piccola spinta verso l'alto. Ed è una cosa molto utile, soprattutto se ti devi arrampicare su certe zone. Detto questo. Devo assorbirla tutta? Cole, dovresti poter abbassare il ponte se gli dai un po' di energia. Eh beh, certo. Non sovraccaricarlo. Un incendio potrebbe far esplodere l'intero villaggio. Sì, signora. Potrei uccidere tutti questi tizi in un colpo solo. Oh, certo. Insieme a donne, bambini e animali. Eh beh, certo. C'hai ragione, scusami. Aspetta. Eccolo lì. Devi arrivare fino al verde, ovviamente. Ovviamente a noi ci importa di essere buoni a questo giro. Non vogliamo essere dei cattivoni. Ma più che altro... Eh sì, sparare ci fa consumare l'energia. Gesto di pace. Opportunità. Eh beh, certo. Ma da dove è apparso questo? È esploso tutto. Allora. Ok, questo è morto. Ce n'è ancora uno. Ma eccoti qua. Prendi questo, mostro! Sei morto? Ecco fatto. Eliminazione e... Uccisione ferito. Detto questo... Vi aiuto io. Ehi, ci penso io. Oh, grazie. Non mi servono neanche le cure mediche. Grazie a te. Yuhu! Ci ha guariti. Che bello. Allora. Ce n'erano altri. Fammi vedere. Sono morti? O posso tipo... Esatto. Iniziamo a fare un po' i buoni. Proseguiamo. Allora, aspetta. Ecco. Dov'è? È innescata! Quella è una bomba! Kabum! Oh, sta bomba qui non è male. Certo, non fa grandissime quantità di danno. Ma schifo non ci fa, giusto? Dov'è volato? Non lo so. Allora, aspetta che ti raggiungo io. Non lo vedo! Ok. Ah, è morto. Pensavo di riuscire a catturarlo. Va bene, non importa. Mi serve... Esatto. Dell'elettricità. Vieni qua che è a te. Ti catturo. Sono sempre punti extra, ovviamente. Neanche tu. Ecco fatto. Due in un colpo. Ottimo. La nostra esperienza per Gressen in Femus 1 ci rende molto più pratici. Vieni qua. Certo, come ho sempre detto... Il biodrenaggio è molto più utile. Però, giustamente... Noi vogliamo fare... I buoni della situazione. Affonda la barca. Non sono sicuro... Sì, è andata. Perfetto. Ti giuro che non capivo se l'avevo colpita. Ma scommetto che ci sono altri miliziani nascosti. Ok, dacci tu il via libera. Ecco qua. Tu sei morto? Sì. Tieni premuto. Spinte statiche. Ah, giusto. Eh, scusami. Mi ero dimenticato del nome. Mamma mia, che bello. Io ve l'ho già detto. Madonna mia, quanto sei diventato bravo, Cole. Infamous 2 è stato il mio primo, Infamous. Non ho giocato al primo... Per primo. Però... Amici, facciamo chiarezza una volta per tutti. Eh, già. Io ho creato la milizia. Non per me... Ma per voi. Per la vostra protezione. Vi siete sottoposti a grandi sacrifici. Rinunciando ad alcune... Libertà. Ahà, certo. Sono per dare sicurezza. A voi e ai vostri cari. Non vale forse... Qualsiasi sacrificio. Da cosa venite protetti, voi mi chiedete. Mostri. Orrende creature. Esse esistono, amici. Vivono tra di noi. E rappresentano la più grande minaccia mai affrontata. Certo, Bertrand. Se avete visto il pericolo in nostra città, io non ho esitato ad agire. Vi chiedo di trovare il coraggio per fare lo stesso. Segnalate comportamenti sospetti al numero di emergenza della milizia. Chissà se quel numero davvero funzionava. Perché in molti giochi che appare un numero di telefono, poi effettivamente se lo chiami tipo fallout, alla fine qualcuno ti rispondeva veramente. Riparti... Ah, giusto. Non fatelo entrare in città! Cos'è successo? Cos'è successo? Sei scappata? Non sei più la stessa cosa? O sei ancora quella che è cresciuta insieme a me? Posso distruggerlo? Ecco fatto. A posto. Detto ciò, proseguiamo. Oh, non cadere. C'è qualcuno qui? Non sembrerebbe. Allora. Madonna mia. Anche solo nei movimenti sono molto meno meccanici. E ci credo. Sono passati comunque degli anni fra il primo e il secondo. Ma siamo sempre su PS3. E la gente non si rende conto che la PS3 ha avuto comunque certe robe sopra incredibili. Stronzi. Vieni qua tu? Ma stai buono. Innescati da solo, cretino. Allora. Distruggiamo la torretta. Ho bisogno di un po' di energia. Questa cosa che call, anche sparando i colpi normali, perde, diciamo, energia. È sensata, per carità. Però, per chi arriva dal primo a questo, dici... Perché? Avevo l'energia infinita per sparare i colpi infiniti all'inizio. E adesso me la togli? Sì. Perché alla fine, diciamo, che è più giusto così, no? Eccoci arrivati. Ok ragazzi, potete attraccare. Bene, ti raggiungiamo e andiamo al laboratorio di Wolf. Va bene. Irruzione a New Marine. Missione completata. Le tue azioni ti hanno reso molto più eroico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.